Capitolo 9 La notte, quando non riuscivo a prendere sonno, sgattaiolavo al piano di sotto e facevo una nuotata in piscina. Iniziavo a fare le vasche e continuavo finché non ero stanca. Quando tornavo a letto, avevo i muscoli doloranti, ma anche tremanti e rilassati. Dopo la nuotata, amavo avvolgermi in uno dei teli da bagno di Susanna, color fiordaliso. Prima di conoscere Susanna non avevo mai sentito parlare dei teli da bagno. Poi risalivo in punta di piedi al piano di sopra, addormentandomi con i capelli ancora bagnati. Si dorme così bene dopo essersi immersi nell'acqua. È una sensazione bellissima. Due estati fa Susanna mi trovò in piscina e per alcune sere nuotò assieme a me. Mentre ero sott'acqua a fare le mie vasche, la sentivo tuffarsi e iniziare a nuotare sull'altro lato della piscina. Non parlavamo, nuotavamo e basta, ma era rassicurante averla con me. Furono gli unici momenti di quell'estate in cui la vidi senza parrucca. In quel periodo, a causa dell'achemio, Susanna portava sempre la parrucca. Nessuno la vedeva senza, neppure mia madre. Susanna aveva dei capelli bellissimi, lunghi, color caramello e morbidi come zucchero filato. La parrucca non era niente di paragonabile, nonostante fosse di capelli veri e costasse parecchio. Dopo l'achemio, quando le ricrebbero i capelli, iniziò a tenerli corti, appena sotto il mento. Le donavano, ma non era la stessa cosa. Guardandola adesso, è impossibile capire com'era un tempo, con i suoi capelli lunghi d'adolescente come i miei. Quella prima sera d'estate non riuscivo a prendere sonno. Mi ci volevano sempre una notte o due per riabituarmi al letto, anche se ci avevo dormito ogni estate della mia vita. Mi rigirai per un po', e poi ne ebbi abbastanza. Mi misi il costume, quello che un tempo usavo al corso di nuoto e che ormai mi stava a malapena, con le strisce dorate e incrociato sulla schiena. Quella era la mia prima nuotata notturna dell'estate. Quando nuotavo da sola, di notte, tutto diventava molto più chiaro. Ascoltare i miei respiri mi faceva sentire calma, salda, forte, come se avessi potuto nuotare all'infinito. Nuotai su e giù per alcune volte, e alla quarta vasca, al momento della virata, sbattei in qualcosa di solito. Uscì in superficie per riprendere fiato, e vidi che si trattava della gamba di Conrad. Era seduto sul bordo della piscina, con i piedi nell'acqua. Mi aveva osservata per tutto il tempo, e stava fumando una sigaretta. Rimasi sott'acqua fino al mento. Di colpo mi ero accorta di quanto il mio costume fosse piccolo per me. Non sarei mai uscita dall'acqua in presenza di Conrad. «Da quanto fumi?» gli chiesi in tono accusatorio. «E poi che ci fai qua?» «A quale domanda vuoi che risponda per prima?» Conrad aveva in volto la sua tipica espressione divertita e condiscendente, che mi faceva impazzire. Nuotai fino al bordo e appoggiai le braccia. «Alla seconda!» «Non riuscivo a dormire, così ho deciso di fare una passeggiata», disse stringendosi nelle spalle. Mentiva. Era uscito solo per fumare. «Come sapevi che ero qua?» gli chiesi. «Ma dai, belli, tu vieni sempre a nuotare di notte!» diede un altro tiro alla sigaretta. Sapeva che nuotavo di notte. Pensavo che fosse un segreto, mio e di Susanna. Mi domandai da quanto tempo lo sapesse. Mi domandai se lo sapessero tutti. In realtà non sapevo perché avesse importanza, ma per me ne aveva. «Va bene, d'accordo. Ora dimmi da quanto tempo fumi?» «Non lo dovresti farlo. Dovresti smettere subito. Hai già preso il vizio?» Rise. «No!» «Allora smetti. Se ti impegni sono certa che ci riuscirai. Se si fosse impegnato avrebbe potuto fare qualsiasi cosa.» «Forse non voglio farlo. Dovresti invece. Fumare fa male.» «Tu cosa mi dai se smetto?» mi chiese per scherzo. Teneva la sigaretta sollevata sopra la lattina di birra. D'un tratto l'atmosfera mi parve diversa. Era tesa, elettrizzata, come se l'avesse attraversata un fulmine. Mi allontanai dal bordo e mi mantenni a galla, lontano da lui. Prima che gli rispondessi, sembrò passare un secolo. «Niente», dissi. «Dovresti smettere per te stesso.» «Hai ragione», replicò. E quel momento finì. Conrad si alzò e spense la sigaretta sulla lattina. «Buonanotte, belli. Non rimanere qua fuori troppo a lungo. Non si può mai sapere che genere di mostri spuntino fuori di notte.» Tutto era tornato normale. Io gli schizzai le gambe e lui si allontanò. «Vaffanculo», gli dissi alle spalle. Molto tempo prima, Conrad, Jeremiah e Steven mi avevano convinto che ci fosse un assassino di bambini in libertà, uno di quelli a cui piacevano le bambine cicciotte con i capelli castani e gli occhi azzurri. «Aspetta, smetti o no di fumare!» gridai. Non mi rispose, rise soltanto. Lo capì dal modo in cui gli si muovevano le spalle mentre chiudeva il cancelletto. Quando se ne fu andato, tornai a immergermi in acqua e rimasi a galla. Sentivo il cuore martellarmi nelle orecchie. Batteva in fretta come un metronomo. Conrad era diverso. Lo avevo percepito già a cena, prima che mi parlasse di obri. Era cambiato. Eppure mi colpiva ancora nello stesso modo. Nello stesso identico modo. Mi sentivo in cima alle montagne russe.